ciao a tutti sono arrivato al lago di cingoli oggi una giornata bellissima c'è il sole è abbastanza caldo non tanto freddo e qui ci sono le barche le barchette per andare sul lago questo lago tra le montagne degli appennini è un posto bellissimo veramente molto tranquillo e abbastanza turistico e là c'è un bar un piccolo ristorante la gente che pesca e le persone che pescano è un lago molto grande forse il più è il più grande della regione marche e qui c'è questa strada questo passaggio intorno intorno al lago è un lago che ha perso un po di acqua il è un lago che si è seccato è un po più secco e si vede da qui c'era c'era più acqua prima qualche anno fa c'era più acqua un po di siccità l'acqua era più era più alta ma è sempre bellissimo le montagne le montagne Grazie a tutti